E' stata una giornata intensa e densa di emozione, quella vissuta a Santo Stefano di Camastra in occasione del raduno organizzato da Salvatore Mazzeo e Santo Prinzi in collaborazione con la Scuderia Ferrari Club di Trabbia, in memoria del compianto Giovanni Rumore. Molto toccante l'arrivo della nutrita carovana presente per ricordare un loro vecchio compagno di viaggio, accolti dai familiari del compianto Rumore in questa giornata a lui dedicata. Sono felice oggi di essere qua a Santo Stefano a trovare l'amico che è buonanima, non c'è più, il cavaliere Giovanni Rumore che mi ha dato e mi ha dato un ricordo di grande signorilità manifestando tutta la sua persona che era. Oggi con grande gioia mi presento davanti alla sua villa dove abita Santo Stefano assieme a tutti i suoi cari, alla signora che ricordo con estrema stima. Dunque quello che vale nella vita sono i sani principi di dignità promessa. Ho un ottimo ricordo, lo ricordo con immenso gioia come se fosse mio fratello. Momenti di commozione per i familiari grati agli organizzatori per questa giornata commemorativa che sicuramente lascerà un segno indelebile. Il ricordo di una persona a cui gli amici presenti hanno voluto dedicargli un giusto tributo. La mia famiglia Rumore ringrazia gli appassionati delle Ferrari, soprattutto del club di Trabia e del club di Palermo. Nelle persone di Santo Prinzi e Salvatore Mazzeo hanno organizzato questa manifestazione, ne ricordo del mio papà Giovanni Rumore e siamo veramente grati di questo evento. Grazie a tutti.